Amici di Corse di MotoTV, siamo qui a Misano al Marco Simoncelli World Circuit perché da qui prende il via la stagione del Virus Power National Trophy, ovviamente 1000, la 600 è già scattata qualche settimana fa, siamo nel layout del Motocales Poleto Promoter del National, adesso andiamo a vedere come sono andate le Q2 andando a intervistare sulla griglia di partenza i primi tre piloti e poi Highlights per come è andata la gara. A causa delle piogge del weekend, domenica pomeriggio, per evitare eventuali scrosci, si è deciso per la quick procedure, quindi griglia chiusa e no interviews, dalla pole position parte Matteo Baiocco su Aprilia, alle sue spalle, sempre su Aprilia, Alessandro Andreotti, terza piazza per Luca Salvadori su Ducati V4R del Broncos Racing Team. E' tutto pronto a Misano, si spengono i semafori per il National 1000, parte bene dalla pole position, Matteo Baiocco davanti ad Andreotti, Luca Salvadori ed Alec Schacht si va verso la prima staccata, quella del parco con Baiocco davanti ad Andreotti e Salvadori. La dietro al problema c'è anche Rovelli invischiato in quel contatto e poi abbiamo visto Ciacce e Castellarini alle spalle di Salvadori, ma c'è un problema per Baiocco che viene infilato sia da Andreotti che da Salvadori. Salvadori che adesso prende tutta la scia di Alessandro Andreotti sul rettilineo che porta verso la quercia, esce dalla scia, va a staccare in fondo alla quercia, Salvadori e conquista la prima posizione. Quindi Salvadori davanti ad Andreotti e Matteo Baiocco sfila intanto tutto il gruppone in maniera regolare in questo primo giro alla quercia con Luca Salvadori che ha già preso un po' di margine sugli inseguitori. Grande ritmo sull'asciutto, vedete Salvadori, Andreotti, Baiocco, Ciacci e poi Arcangeli rimontante dalla sedicesima posizione, Filippo Rovelli. Quindi intanto Salvadori con 1.36.948 fa segnare anche il giro più veloce, un giro che gli permette di staccare i duellanti Andreotti e Baiocco alle sue spalle e tutto il gruppo che tenta in vano di inseguirlo. Si va verso gli ultimi chilometri di gara con Luca Salvadori che va a conquistare così la prima vittoria dell'anno in sella la V4R del Broncos Racing Team. Salvadori primo, secondo, un grande Filippo Rovelli, terzo, Matteo Baiocco su Aprilia e ora ne massetti di piloti nel parco chiuso. Iniziamo dal terzo, un terzo posto per Matteo Baiocco qui col team LR Aprilia-Misano. Matteo, lo sapevamo, con l'asciutto ci sarebbe stato un po' da soffrire e si è sofferto. Con l'asciutto non c'è stato tempo di fare una cosa normale in questi giorni perché non ho fatto praticamente un test, io non sto correndo a tempo pieno in questi ultimi anni. Quindi ho fatto un'uscita qua un mesetto fa e tempo instabile. Poi il venerdì qui ho fatto una prova, non funzionava, ieri acqua. Quindi diciamo che oggi ho corso a scatola chiusa, come era, era. Mi sono salvato bene ieri in condizioni miste dove ho potuto guidare sopra un po' di problemi. Però penso che va bene lo stesso, i ragazzi sono contenti. Ho comunque messo la mia Aprilia davanti all'altra Aprilia e noi ci guardiamo anche queste cose qui, ci fa piacere. E poi sinceramente ho fatto qualche piccolo errorino, se no potevo anche salvarmi con Filippo che è giovane, bravo, sono contento. E niente, Luca aveva un passo differente, pacchetto differente, quindi va bene, siamo contenti così. Adesso vediamo se riesco a fare anche il Mugello e poi qualcun'altra se sarò libero. E poi devo dire che se è vero che Luca Salvadori era davanti staccato, tu, Andreo, Ossi, Rovelli, un po' di spettacolo dietro l'avete dato? Contro-sorpassi, contro-sorpassi, avete animato questa gara? Sì, 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 è stato carino, è stato carino. Io ho seguito un po' Andreo Ossi per metà gara perché pensavo che Rovelli fosse un po' tagliato fuori dopo la posizione di partenza. Ho visto due o tre giri sempre lo stesso distacco, poi a un certo punto molto più vicino e allora mi sono sbrigato a superare Andreo Ossi. Ma il giro dopo ho commesso un errore, quindi lì che potevo fare un paio di 37, ho fatto ancora 38 e peccato perché potevo salvare il secondo posto. Però va bene, le gare sono anche così e farla alle 6 senza un warm-up, quick start procedure. Peggio non poteva essere dal punto di vista del nervosismo, quindi va bene, mi sono divertito. È vero, diciamo che è stato un weekend abbastanza spigoloso per il National. Bravo Matteo, ci vediamo alla prossima. Grazie, un saluto a tutti e complimenti al National perché è stato figo. Ciao. E allora venga Rovelli, il più grande rimontatore della giornata, da sedicesimo posto. No, puoi anche passare in piedi Matteo, tanto facciamo questo turnover bellissimo. Filippo, sull'asciutto, insomma, mi sto prendendo le misure, poi è arrivata questa Q1, Q2 bagnata, dove sei rimasto un po' incasinato per problemi tecnici. Però sull'asciutto in effetti sedicesimo secondo, un grandissimo debutto. Sì, sì, è stato bellissimo, un bel debutto con la BMW e con il team Pistard. Sì, mi sono trovato in difficoltà nella qualifica perché ho avuto un problema con l'elettronico, cioè con l'elettronica. E sai, non è bello girare con un 1000 con dei problemi all'elettronica sul bagnato, quindi non siamo riusciti a fare dei tempi nella Q1. Poi nella Q2 purtroppo è venuto giù un'acquazione che non ci ha permesso di classificarci davanti. Però dai, ci siamo divertiti lo stesso perché comunque far tutti quei sorpassi io mi diverto moltissimo. Dimmi una cosa, quando ti sei schierato oggi nella sedicesima casella, quale risultato ti saresti aspettato? Ovviamente sapevi che andavi incontro a una rimonta. Ti aspettavi di rimontare fino al secondo posto? Fino al secondo posto no, però pensavo di arrivare fino al terzo posto perché pensavo che Andreozzi fosse un pelino più veloce di passo. Invece si è rivelato il contrario, Baiocco è riuscito ad andare un pelino più forte di Alessandro, comunque di passo. In queste decine e decine di sorpassi che hai fatto qui al Marco Simoncelli, qual è stato quello un po' più ostico? Insomma, che ti ha fatto venire una lingua un po' più lunga? Il sorpasso su Matteo è stato molto bello, dalla 2 alla 3 nel cambio di direzione mi è piaciuto molto e poi anche molti sorpassi in staccata mi sono piaciuti molto. Bravo Filippo, ci vediamo alla prossima. Grazie mille, ciao alla prossima. Allora ti faccio accomodare, chiamo Luca Salvadori che è qui dietro, non lo vedevo, è dietro il podio, c'è Luca vieni vieni Luca. Insomma, questo National 1000 si è presentato con questo V4R giustamente e per tanti anni ti hanno fatto un po' sputare sangue con moto, insomma ti andavi a sputare lo display, ma quest'anno sei armato fino ai denti, però bisogna dire che sull'asciutto è il più veloce delle prove e oggi in gara hai dimostrato con un bel passo di poter dire la tua. Sì, in verità, quando ho visto i primi due giri, ho visto il 36 alto, ho detto mi sa che non basta, poi ho visto più due secondi e mezzo, strano, poi ho rifatto il 36 alto, più 4, la madonna, ho detto oggi è comoda, e oggi è stata comoda, poi dal quinto giro inizi a vedere i fantasmi, gli ultimi due anni, le rotture di palle, eccetera eccetera, ho detto portiamola a casa per i tranquilli, perché a diventare i pollici vuole un attimo e me la sono portata a casa bello, tranquillo e stupendo. C'è da dire che mi sono messo un po', mi sono immedesimato un po' in te ieri, sabato, perché Q1 bagnata, Q2 allagata, cioè no, io pensavo, beh se fossi Luca ho il V4R, ho una bella squadra, è tutto inverno che aspetto comunque questo inizio del campionato, ti arrivo un sabato così dopo un venerdì, perfetto, mi sono messo la testa, ho pensato, cioè come la vivrà lui, ti giravano un po' le balle, rosicavi, eri preoccupato? No, rosicavo perché mi sarebbe piaciuto fare l'unplan, libra 1, libra 2, Q1, Q2, però alla fine, come al solito diciamo, alla fine abbiamo il contenuto, in questi casi... Il contenuto eravamo sicuro che ce l'abbessi però... Esatto, però bello, bellissimo e insomma non posso chiedere niente di più, voglio ringraziare tantissimo la squadra perché nel backstage non si sa che casini, quanta organizzazione ci vuole per far funzionare quel mezzo lì, che non è solo il problema del mezzo in sé, ma è far funzionare tutto il contorno e tutto quello che ci va per metterlo a punto. Quindi Luca ha fatto conforti, ha fatto un lavoro incredibile, lo ringrazio, ringrazio tutta la squadra, gli sponsor che hanno anche permesso tutto questo e quest'anno ce la godiamo e non vedo l'ora delle gare in salita e su strada. Ecco, allora, no, volevo dire una cosa Luca, che tu hai detto l'altro giorno a Paddock Live, hai ripetuto adesso ma diciamo l'hai presa un po' più larga, che la gente a casa non sa che quando uno ha un V4R non è che c'è, no, metto la chiave, gira, poi parto, no, e mi dicevi giustamente, oh, qui il problema è che se per dire la lancio faccio un danno, poi, cioè per metterci le mani, se si rompe qualcosa di particolare, ci vogliono le persone quelle lì e non è che uno ce l'abbia, cioè bisogna stare molto attenti con questi tipi di moto. Sì, allora, essendo che, come dicevo, abbiamo un mezzo tecnicamente avanzato, mi ha detto veniamo qui a Misano, diciamo in maniera molto soft, senza ingegneri, senza casino, l'accendiamo e partiamo, però sappiamo che se va in terra è un problema, stai scoprendo una parte di me ponderata che forse non conoscevi, perché gli anni scorsi per stare davanti con il V4S di serie contro moto preparate deve stare sempre lì così, quindi era un po' più complicato. Qui abbiamo detto, oh, siamo messi bene, abbiamo fatto dei bei test, non ci dovevamo inventare niente, quindi siamo usciti veramente senza grossi problemi, però l'appetito viene mangiando, vedere un 35,5 senza tirare al massimo, perché anche la velocità avrai visto, non erano incredibili, possiamo perfezionarci parecchio, insomma. E poi la chiudiamo spegnendo un po' le polemiche che, vabbè, ci saranno sempre. Ah, no, lui è per alimentare perché fa l'hype, però Baioco diceva giustamente due minuti fa in conferenza, no? Beh, averci, no, queste moto, cioè magari Aprilia mi spedisce una moto prestazionale come la Ducati V4R, in primis, perché comunque ci serve una gran bagara, e in secondis, ragazzi, non è colpa di Salvadori, il V4R, cioè nel senso, ma l'anno scorso è uguale con Canepa, cioè, quindi non scopriamo nulla di nuovo. Ma, eh, allora, il discorso è questo, il buon Enzo Ferrari, penso, nessuno mi ammazzi se sbaglio, diceva, chi vince festeggia, chi perde spiega. Io per due anni ho dovuto spiegare, perché sai, vice campione per quattro anni sono andata un po' i coglioni, ho detto sinceramente, e ho detto, io non posso sapere anche prima chi verrà l'anno prossimo, no? Ho detto, io voglio essere nelle condizioni di giocarmela, o alla pari, o messo meglio. Quindi, ho detto, andiamo lì, vediamo. Poi, non vedo l'ora che vengano Gammarino, Lamarra, tutti i nuovi, insomma, così, insomma, ci sarà un po' bel più di bagarre, no? Un po' di movimento, anche perché i primi tre, il primo mezzogiro è stato, tosto, pan, sorpassi. Lo immaginiamo, ma poi va bene, approfondiremo. Allora, si rischia quest'anno, adesso si toccherà, però si rischia, adesso, a parte di scherzi, c'hai messo bene qui al National 1000, però nella salita lo sappiamo che, nonostante l'S, insomma, l'S è una bella moto per fare il CVS, e correrai, chiaramente, nella classe top, e si rischia quest'anno di portarsi a casa in un anno tutto quello che non sembra da casa in tutti questi anni, che va bene far contenuti, però ogni tanto, no? Qualche soddisfazione sportiva la vorresti avere anche tu, credo. Ma soprattutto, cioè, io ho creato un po' tutto sto cinema per fare quella roba lì e quando non vinco mi girano particolarmente. Mi sono un po' troppo abituando a fine anno a dire, eh, cazzo, poteva andare meglio, però, insomma, è anche difficile far secondo, far terzo, insomma, stare lì, sempre essere competitivi per tanti anni lì davanti. Però quest'anno l'obiettivo è quello, e mi piacerebbe anche andare all'IRRC in mezzo agli esperti della categoria con pochissimi turni e magari tirar fuori un podio. Stavo giusto dicendo prima che c'era il problema che nell'IRRC la regolamentazione è tipo Superbike, quindi puoi correre solo con la 1000, e la R però non ce l'abbiamo ancora allestita, e quindi cosa rimane? L'S. No, Superbike. Ah, Superbike. Quindi era bello andare lì a Engelo, col fatto che non abbiamo girato niente questo weekend, il chilometraggio ci stiamo nemmeno. Ma quando è Engelo? I primi di maggio. Ah, è vero, è vero, perché è su Deruta all'inizio del... no, per il maggio c'è l'inizio del CVS a Deruta però. Sì, con la S. Ah. E poi R. Ah, la settimana dopo? Esatto. Dicevo, ok, già, come fai? Sei da tutte le parti? No, no, ok, ok, perfetto, quindi facciamo CVS a bomba V4S. V4R Superbike a Engelo, se tutto si inquadra bene, e lì rettilineoni ci sono. No, ecco lì, non posso buttarla. E poi all'esseremo una R per fine anno, insomma. Viene da ridere perché guardo il giallo canarino, l'ho visto il video, no, dice allora, voglio il giallo DHL, nel video, dice vabbè, poi lo vedi al vivo e dici, è il giallo DHL. Eh no, ho scritto, a inizio anno, no ragazzi facciamo, almeno dividiamo, no? Velocità e sono velocità, pista, giallo, rosso, salita. Ho detto, il giallo, goleva è bello però, quando vedo in fronte di DHL mi piacciono quel rossettino, ho scritto. Pantone, giallo DHL, l'ho dato al buon CSD Racing Design che saluto, e via. Però è come su un errore, poi la chiudiamo, perché se è vero che tu sarai rosso in salita, mi sei giallo in pista, e ciccio ti sei dimenticato il casco? Il casco, eh no, 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 ci ho pensato, il problema è che tutto pieno giallo sembra l'appemaia, un qualcosa per staccare ci stava, no? Quindi l'abbia fatto rossa apposta, l'abbia fatto apposta, abbiamo fatto un render e sembrava proprio l'appemaia, ho detto dai, stacchiamo un attimo, ho fatto, l'estremità le facciamo di un altro colore. Nella pole, esatto. Ci vediamo la prossima. Ciao ragazzi, ci vediamo a Vallelunga, mi raccomando, poi a Vallelunga, bello carico, mi sa che c'è gente, insomma, dai. Vallunga, sa che comunque gli ignorano tutti l'idea. Ciao, ciao.